determinano imponenti flussi di persone che lasciano i loro paesi d'origine in cerca di un futuro migliore. Si tratta di una realtà che non interessa solo l'Italia ma tutta l'Europa, che ha colpevolmente sottovalutato le conseguenze della crisi degli anni scorsi dall'Iraq alle primavere arabe, dalla Siria alla Libia. Il nostro continente si misura con una sfida epocale e dal modo di affrontarla dipenderà il suo futuro e il giudizio che ne daranno le nuove generazioni di cittadini europei.